e voler diventare la misura di tutto e per tutto allora quello che è bene o quello che è male decide il mio egoismo cioè quando metto me stesso al primo posto della mia vita e quando voglio che gli altri mi prendano anche come centro della loro vita soprattutto quando succede questo nella coppia come finché dopo finiremo un po' focusando alla vita della famiglia l'egoismo significa allora voler che Dio e gli altri prendano noi i nostri desideri i nostri piaceri le nostre cose al primo posto immaginate noi vogliamo così stare bene noi ci crediamo di noi stessi perché pensiamo così possiamo stare meglio nessuno vuole nessuno diventa egoismo per danneggiare se stesso ma ecco che già qui possiamo scoprire grandi inganni dell'egoismo perché se uno si chiede in se stesso in questo modo come ho detto non può amare non può mai essere gioioso perché per sicuro per sicuro né Dio né gli altri faranno quello come lui vuole come lui lo pensa per sé e rimane amareggiato arrabbiato furioso non contento e dopo comincia a accusare io ho già detto ieri da dove vivono queste accuse da questo atteggiamento e ho detto due frasi e hanno risposto bene che frasi si sente più spesso prima frase povero io a causa del mio marito molle bambini socia socia o povero mio marito molle bambini a causa di me e questa prima si sente sempre povero io a causa di loro ma povero loro a causa di me questo no questo si deve imparare e naturalmente allora che se io sono sempre povero a causa degli altri significa che sono egoista e qui vorrei subito accenare una cosa quanto riguarda la famiglia soprattutto la relazione figli e genitori tanto spesso si sente ecco i miei genitori non mi hanno amato è così sono feriti quando uno apre la bocca e mi dice mamma padre non mi hanno amato anche se avevano i loro difetti non so che cosa tutto fino al divorzio forse sicuro per sicuro rimangono feriti poi dico subito adesso un po' stop bisogna discendere una cosa c'erano anni a prima prima della nostra vita nei quali la mamma e il papà hanno fatto tutto per noi ma tutto erano per noi ventiquattro ore ci hanno servito in tutto e ci hanno anche imparato a parlare e chi era il primo che doveva sentire no dalla nostra bocca era mamma era papà erano i genitori quando ci servivano andavano erano bravi quando volevano qualche cosa da noi e dopo si mettono in discussione allora io interrompo frasi subito quando le dico il genitore così dico guarda tu puoi dire così quando la mia mamma mi serve o serviva era brava quando mio papà mi serviva era bravo ma subito quando aprono la bocca e vogliono qualche cosa di me non va bene loro luogo di dire la mia madre e i miei padri non mi hanno amato o non hanno fatto quello che io volevo potremmo dire io ero egoista ero pigro volevo che mi serviva sempre e non volendo servirmi siamo venuti in conflitto e dopo portiamo le ferite tutta la vita accusando loro io non tutti sappiamo che non siamo perfetti ieri ho detto noi nel nostro cuore portiamo un profondo desiderio dell'amore incondizionato noi vogliamo essere amati incondizionalmente è bene questo è anche il nostro desiderio diciamo anche il nostro diritto ma quando gli altri diventano conscienti di loro diritto di essere amati da noi senza le condizioni noi sappiamo che questo non possiamo e non diventiamo conscienti che gli altri non possano amarci così non è possibile dopo una parte prega l'altra non prega così a livello spirituale la famiglia che purtroppo possiamo dire senza condannare manca molto là dove si prega dove pregano i genitori pregheranno anche i figli uno può dire ma io pregavo i miei figli andavano alla messa con 13 14 16 sono andati via anche se sono andati via ritorneranno per il festival dei giovani abbiamo il primo giorno metadì martedì se qualcuno era qui per esempio ha parlato del primo martedì lui era medico si attra si attrapevano aveva la sua prassi lui diceva era nella commissione prima dei medici italiani con il medico fare gli esperimenti con i leggenti durante l'estasi lui ha detto così con nove anni io ero chierichetta pregato dopo mi sono allontanato cominciato studi ho finito tutto la 17 fino al 27 non sono entrati neanche nella chiesa come il medico accompagnava un po' le allegrinaggi a lui vedeva anche le religioni miracolose non era niente per lui è venuto il medico e ha detto quando ha capito sentito un po' e ha ricevuto la grazia dice io volevo pregare ho cominciato a Maria e pensate che la conoscevo non la sapevo più dopo con tanto ecco un grande lungo cammino è diventato sacerdote e fa grandi opere grandi opere soprattutto nel livello del discernimento della sua comunità perché era un po' chi l'altro non è molto importante cosa la psichiatria è così allora che cosa vuol dire se nella famiglia si prega anche se il figlio va volante si adottando un giorno per sicuro sarà toccato possiamo salvarsi quelli che vogliono sposarsi ancora quelli che sono sposati guardate che cosa io cercavo che cosa io volevo mi ricordo di uno un ragazzo già un po' avanzato nell'età mi ha detto ma tu non pensi a formare una famiglia mi ha detto ma sì sì penso ma non so è difficile trovare una donna ideale io ho detto tu cerchi una donna ideale con che diritto io ti conosco tu sei lontano da questo che è ideale allora adesso vuoi una moglie una fidanzata ideale tu non hai diritto a una ideale devi cercare uno un po' simile a te e così la troverai ed è così guarda tu cerchi una che ti farà felice contento e tutto l'altro se fai così non la troverai mai perché non esiste una così soprattutto nel tuo caso ero un po' bastonato non voglio scoraggiare i fidanzati se si trovano qui voi siete ideali ma io ti do un altro consiglio tu adesso deciditi lavorare su te stesso e liberati dal tuo egoismo l'orgoglio delle tue paure non so che cosa e dici scrivi una grande con grande lettere c'è anche con ordinatore puoi fare prendimi non sbaglierai e dopo le ragazze sanno che tu sei ideale e dopo ti prendono se tu cerchi questo iscritto sulle ecco sulle spalle di qualche altra non la troverai ma tu puoi mettere avendo paura di sbagliare sbaglierai ma tu puoi dire prendimi non sbaglierai ecco vedete quando ci noi quando siamo ecocentrici cerchiamo solo che ci facciano felici è così che incoraggia molti se tu vuoi fare altro felice tu tu puoi sposare senza paura puoi sposarti perché troverai sempre la persona che puoi fare felice alla quale puoi amare senza le condizioni della persona e così guardate se quando si entra e si entra purtroppo quando si entra con questa condizionato amore eh tu mi ami mi amore io ti amo così fanno anche i pagani dice Gesù amare senza le condizioni significa avere la pace e poter anche superare tutte le tentazioni e rimanere veramente proprio felice e avere e essere una famiglia in pace che Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti